sigilliamo sempre tutto ogni mattina con il prezioso sangue di gesù nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vieni spirito santo manda a noi dal cielo il raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla è senza colpa lava ciò che è sortito bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelito drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen signore gesù cristo nel tuo nome e con il potere del tuo preziosissimo sangue sigilliamo ogni persona fatto o evento attraverso cui il nemico ci voglia pregiudicare con il potere del sangue di Gesù sigilliamo ogni potenza distruttrice nell'aria sulla terra nell'acqua nel fuoco sotto terra negli abissi dell'inferno e nel mondo in cui oggi ci muoveremo con il potere del sangue di Gesù spezziamo ogni interferenza e azione del maligno ti chiediamo signore di mandare nelle nostre case e nei nostri luoghi di lavoro la santissima vergine maria accompagnata da san michele san capriele san raffaele e tutta la loro corte di santi angeli con il potere del sangue di Gesù sigilliamo la nostra casa tutti coloro che la abitano fare il nome di ciascuno le persone che il signore invierà loro e tutti gli alimenti e i beni che ci concede generosamente per il nostro sostentamento con il potere del sangue di Gesù sigilliamo terra, porte, finestre, oggetti, pareti e pavimenti l'aria che respiriamo e nella fede poniamo un cerchio del suo sangue intorno a tutta la nostra famiglia con il potere del sangue di Gesù sigilliamo i luoghi in cui ci recheremo in questa giornata e le persone, le imprese e le istituzioni con cui tratteremo con il potere del sangue di Gesù sigilliamo il nostro lavoro materiale e spirituale gli affari della nostra famiglia, i veicoli, le strade e qualsiasi mezzo di trasporto che dovremo utilizzare con il tuo preziosissimo sangue sigilliamo le azioni, le menti e i cuori della nostra patria affinché possano regnarvi la tua pace e il tuo cuore Ti ringraziamo Signore per il tuo preziosissimo sangue mediante il quale siamo stati salvati e preservati da ogni male Amen Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen